Giunghi Rossetani, recupero di Nick Agbasse Abdul Rauf va sul pick and roll a tirare da 3 la tripla del Galiffo Mahmoud Abdul Rauf può sfigliare il contropiede servizio per Nick Agbasse, cambialato per Rauf da 3 tripla Rauf 15 a 7 mamma mia e da più 8 ora parziale di 7 a 0 Siena che risale a meno 1 da 3 punti, ancora Rauf Rauf in possesso di palla si arresta Valtiro, Valtiro Valtiro Rauf fa segno Rauf 30 a 22 e sono 4 le triple di Mahmoud Abdul Rauf Tannica Agbasse Brown Rauf palla dentro giù il canestro e giù il cappello chapeau questo è un giocatore che io in Italia non ho mai visto non ho mai visto e nemmeno io Giorgio primi due punti per David Vanterpool Rauf palleggio arresto tiro canestro il basket è uno sport meravigliosamente semplice visto Beghen Mutombo pronto Norgaard a tornare in campo Nica Agbasse pallone per Rauf da 3 Rauf 39 a 31 lui che è allenato così bene queste settimane Abdul Rauf pallone per Brown Abdul Rauf scarica in angolo per Norgaard ancora Rauf dall'angolo poesia poesia al Palomaggetti poesia al Palomaggetti end casillabi sciolti di Abdul Rauf super